Non ci siamo, fratelli cardinali, noi da questo giorno in poi non ci siamo, non importa chi venga a bussare alla nostra porta, ci siamo ma soltanto per Dio. Fratelli cardinali, noi dobbiamo tornare a essere proibiti, inaccessibili e misteriosi, questo è l'unico modo in cui ritorneremo a essere desiderabili, questo è l'unico modo in cui nasce una storia d'amore e non ho più voglia di vedere fedeli a mezzo servizio, io voglio solo grandi storie d'amore, io voglio dei fanatici di Dio, perché il fanatismo è amore, tutto il resto è soltanto un surrogato e deve restare fuori dalla chiesa. Fissate questa parola in fondo alle vostre anime, imperativo. Da questo giorno in poi è questo che il Papa vuole, è questo che la chiesa vuole, è questo che Dio vuole. La liturgia dunque non sarà più un appuntamento mondano, ma diventerà duro lavoro e il peccato non sarà più perdonabile ad libitum.